per me le sculture sono una presenza viva sono qualcosa che racconta di me del mio intimo e poi il diritto alla mia anima di manifestarsi è l'istinto che prevarica un po' su quello che può essere il razioginio perché faccio andare avanti più la parte istintiva che la parte razionale per me nel momento in cui scolpisco in cui creo questo dialogo vado oltre quello che è la parte logica e mi lascio andare in una dimensione che è un po' sospesa nel tempo e è lì che capto e do voce e do forma a quelle che sono le mie sensazioni e le mie intuizioni per me la presenza fisica è qualcosa di importante mentre si lavora, mentre si crea una scultura il gesto, lo stato d'animo, il momento in cui viene scolpito un blocco è un dialogo molto intimo e profondo e da lì parte si possono andare a cercare, a trovare linee e forme sempre nuove realizzo opere spesso ispirate a opere classiche greche perché ho un percorso comunque di bottega ho un percorso dove vengo da una formazione artigianale della vecchia scuola in maniera un po' romantica che per me è stata una formazione fondamentale anche a livello di poesia, a livello di acquisizione tecnica che diventa mezzo e non fine per l'espressione, per il dialogo di quello che voglio dire e di quello che voglio inseguire spesso mi capita di andare in studio e guardare, osservare le sculture e spesso le sento e le vivo come qualcosa di nuovo, di estraneo sembrano degli sconosciuti che si sono manifestati, si sono arrivati e hanno una presenza viva, una presenza importante, indipendente questo per me è quello che cerco, quello che inseguo